Io sinceramente non so bene da dove partire perché tante sono le cose che sono state dette negli interventi che mi hanno preceduto. Quindi farò una rapida scelta sulla base di due concetti che sono stati espressi. Mi riferisco essenzialmente all'intervento di Maurizio, il primo. Il concetto di rifiuto del lavoro è il concetto di divisione, sono strettamente interconnessi in un certo senso, sono due facce della stessa medaglia. Per quanto riguarda il primo, cioè per quanto riguarda il concetto di divisione, vorrei invece partire forse da un concetto opposto, è quello di convergenza. Io credo che noi ci troviamo di fronte nei meccanismi di dispositivo di potere, anche attraverso il pubblico, ma non solo attraverso il pubblico, ha un processo di convergenza come forma di espressione del biopotere attuale, potremmo dire, che parte dal riconoscimento, da parte della struttura di potere, dell'esistenza di una frammentazione di visione dell'esistenza e delle soggettività. C'è un po' una contraddizione, un paradosso. La struttura del biopotere, molto più di quanto siamo in grado di fare noi, ha già preso atto, o di quanto sono stati in grado di fare forze antagoniste in senso lato, ha già preso atto da parecchio tempo, che il meccanismo di valorizzazione si basa sullo sfruttamento delle differenze, delle divisioni e delle soggettività plurime, che l'evoluzione tecnologica e l'evoluzione dei paradigmi di accumulazione dopo la crisi del modello della grande fabbrica ha iniziato a innescare. Faccio un esempio, forse per capirci, che attiene più ai miei campi di ricerca. Noi veniamo da una tradizione, e qui a che fare il discorso del rifiuto del lavoro, in cui l'attività umana, le 24 ore della vita umana, se utilizziamo come unità di misura il giorno e il tempo, queste 24 ore sono scandite in diverse partizioni, in diverse attività. C'è l'attività di lavoro, in senso stretto, che è il lavoro certificato e remunerato, a cui corrisponde un determinato reddito, che normalmente è un lavoro alienante, che produce pena, sofferenza, tortura, come dice l'etimologia della parola stessa. Poi abbiamo, oltre il lavoro, abbiamo anche un'attività di opera, che è quell'attività umana che non è immediatamente, o almeno veniva intesa un tempo, che non è immediatamente produttrice di sovrappiù. Non era lavoro produttivo in maniera diretta, era al limite lavoro produttivo di valori, ma in maniera indiretta. E quindi questo garantiva la possibilità che l'opus, l'opera, fosse anche una forma di realizzazione di se stessi. Poi abbiamo un terzo parte dell'attività umana, che è stato ricordato prima, il concetto di ozio, o lo asir. Intendendo per ozio, non tanto il riposo, ma quanto la possibilità di ricaricare le capacità mentali, creative e talentuose, il concetto di ozio in latino, che significa anche partecipazione alla comunità, alla cooperazione sociale, si direbbe oggi, all'agorà, alla piazza. E poi abbiamo una quarta categoria di attività umana, che è quella che di solito non mi ha mai preso in considerazione, ma mi sembra abbastanza importante, soprattutto negli ultimi tempi, che è quella di gioco. Non è solo il gioco dei bambini, ma è il concetto di play, ma che riguarda molto più tutta una serie di attività che noi facciamo. Ad esempio, essere o partecipare a un social network potrebbe essere un'attività di gioco, e spesso lo è. Io rimango impressionato, perché cado anch'io quando vedo sulla metropolitana, sui mezzi di trasporto, eccetera, il numero impressionante di persone che col cellulare fanno i giochini. O anche durante l'orario di lavoro, per quello. Ma non è una cosa che si contrappone. Quello che voglio dire è che queste quattro attività, lavoro, opera, ozio e gioco, stanno avendo un processo di convergenza. Sono espressioni di un processo di convergenza, che parte da una divisione che deriva dal passato, che era stata legislata, che era stata governata, che era stata legiferata nel passato. E questa convergenza è verso che cosa? Verso il fatto che, quello che ormai, insomma, non è una cosa nuova quello che dico, che il processo di vita diventa un processo di valorizzazione too court. Cioè, il lavoro tende a confondersi con l'opera e l'opera con il lavoro. L'opera tende a confondersi con l'ozio e viceversa, verso un processo di 24 ore di tempo, se usiamo ancora l'unità temporale, di lavoro eminentemente produttivo. Per esempio, da questo punto di vista, credo che l'esperienza del... Anzi, di prima di questo, dico un'altra cosa. Questo ha bisogno di tempo e spazio. Sono le due categorie di misura. Lo spazio di convergenza e il tempo di convergenza. Dove lo spazio sia spazio territoriale, geografico, fisico, magari anche psicogeografico, ma è anche lo spazio virtuale, lo spazio senza confini. E il tempo diventa una variabile che trascende l'unità di misura temporale classica dell'ora o della convenzione. Diventa un tempo la cui unità di misura tende a coincidere con la durata della vita. Non scandibili in giorni, anni e mesi, per intenderci. E credo che, per esempio, il salone del mobile sia una buona esemplificazione di questo, di questo processo di convergenza. Questo l'abbiamo detto più volte. E questa convergenza verso una produzione di valore vita che sostituisce la produzione di valore lavoro, cioè il valore prodotto soltanto dall'attività di lavoro, ma oggi il valore viene prodotto anche dall'ozio, dall'opera, dal gioco, e quindi dalla vita stessa, in un certo senso. La messa al lavoro della vita modifica e porta che si esemplifica nella gestione e nella capacità di espropriazione del tempo e dello spazio, perché questa è la convergenza del capitale, la convergenza del bipotere, avviene attraverso un processo non di messa a valore in maniera diretta, questo avviene anche, ma avviene anche attraverso un processo di espropriazione, di rendita, di capacità di generorendita attraverso un processo di espropriazione della vita. Cioè siamo, in termini marxiani, potremmo dire che siamo oltre, se siamo oltre la dicotomia privato-pubblico, perché questo avviene oltre la struttura proprietaria, siamo anche oltre la dicotomia sussunzione reale e sussunzione formale, dove entrambe le due forme di sussunzione, di capacità di valorizzazione, sono contemporaneamente presenti, ma generano in maniera esponenziale un processo di sussunzione di vita, che è oltre la somma di sussunzione reale e sussunzione formale, non è semplicemente una semplice sommatoria. Per cui io posso dividere la mia vita in parte in cui è più presente la sussunzione reale, cioè lo sfruttamento e le espropriazioni di sovrappiù attraverso l'intensificazione del lavoro, dei ritmi, dovute anche alle nuove tecnologie, le tecnologie linguistiche, comunicative, che hanno anche ovviamente attraverso la standardizzazione delle procedure comunicative nelle produzioni materiali, hanno questa funzione, di aumentare la produttività in termini biechi. E non santo c'è sussunzione formale, nel senso che ciò che prima era improduttivo per il capitale oggi è diventato produttivo, siamo di fronte a forme di nuova accumulazione originaria, il lavoro di cura, il lavoro artistico, l'amicizia, l'amore, i sentimenti, le relazioni, diventano tutte all'interno di un meccanismo di valorizzazione sempre più diretto e sempre meno mediato. E questa sussunzione di vita è quella che io chiamerei l'espropriazione del comune. Adesso un po' sul termine di comune potremmo discutere, eccetera. E questo è un primo livello di convergenza che noi dovremmo partire. Poi ci sono delle forme, degli strumenti, un piano in cui questo viene reso possibile chi lo vede essenzialmente nella convergenza a livello economico globale che viene dettato dai meccanismi di finanziarizzazione. La finanziarizzazione è un grande processo di omogenizzazione dall'alto. E allora se questi input qui hanno un minimo di senso, è chiaro che la capacità di reazione è rompere questa convergenza. E qui il tema della divisione è della coscientizzazione della divisione diventa fondamentale. Anche qui è un po' paradossale perché la condizione di precarietà che è uno degli strumenti, dei dispositivi per favorire l'espropriazione di questa creazione di valore renderla alla merce di pochi e a danno di molti attraverso le regolazioni mercatole, attraverso la precarietà esistenziale, generale, strutturale, attraverso lo sviluppo di altri dispositivi come quello che ha studiato per esempio Maurizio dell'indebitamento, la creazione dell'uomo precario e dell'uomo o della donna indebitato. Sono due cose che si reggono a vicenda che sono comunque, e su questo mi permetto di non essere perfettamente in sintonia con le tesi di Maurizio, che comunque derivano sempre da uno sfruttamento di lavoro vivo. cioè il rapporto debitore-creditore si accompagna e complementa il rapporto capitale-lavoro, non lo sostituisce, a mio avviso. E allora questa divisione deve essere una divisione che non è che riconosce la divisione che la precarietà e la flessibilità del lavoro induce, l'individualizzazione contrattuale e quindi l'impotenza di reazione che l'individualizzazione contrattuale di fronte a un dominio, un potere che invece totalizzante c'era chi, credo lo stesso Maurizio, in qualche articolo di, ma anche altri, anche Geralt se non sbaglio, parlava di capitale totale, magari un decine di anni fa, adesso non so se questo ha ancora senso o meno. Non dicevo, questa divisione non è quindi una divisione, quella che già c'è e che ci viene imposta sulla base della quale lo sfruttamento e la mercificazione agisce. No, è la divisione all'interno delle soggettività. Cioè quella divisione che ti permette di essere cosciente che tu stai pur nell'attività lavorativa, nell'attività di opera, nell'attività di gioco, nell'attività di ozio e sei un produttore di valore. E quindi è un processo che dovrebbe aiutare a sviluppare forme di sottrazione, a questa convergenza, in un certo senso. Guardavo il tempo. E queste forme di sottrazione che prendono atto di una coscienza di questa pluralità dei meccanismi di sussunzione, di questa divisione, che viene vissuta quindi in senso attivo e non subita in senso passivo, credo che si possono attuare lungo due vie. la prima è quella di cui appunto qui a Macao si sta discutendo, che è quella di rompere il meccanismo di captazione che sta alla base dei processi di finanziarizzazione. E quindi tutto il discorso e il dibattito che abbiamo avviato negli ultimi mesi sul discorso di creare dei circuiti finanziari alternativi, delle istituzioni finanziarie del Comune e della moneta del Comune che è in grado di imporre, di rompere l'omogeneizzazione del biopotere della finanza, creare una divisione, in questo senso la divisione come intervento attivo di autodeterminazione, di autovalorizzazione. E poi un'altra, e questo ovviamente è un filone su cui adesso non entro nel merito perché magari sarà oggetto di ulteriori approfondimenti magari non oggi ma in altre sedi, comunque in termini relativamente brevi e l'altro terreno credo che sia quello della forma di sottrazione attraverso quello che si potrebbe chiamare un esodo interno. Un esodo interno significa il fatto di creare le premesse per quello che alcuni di noi chiamano una produzione antropogenetica dell'uomo a favore dell'uomo. C'è una produzione di valori d'uso che si sostituisce o è complementare la produzione di valori di scambio. Questo è un processo, qui questo è un filone di ragionamento che incontra notevoli difficoltà perché oggi la produzione è caratterizzata, è una, mi è piaciuto molto il riferimento che ha fatto Gherald dal concetto di molecular strike. Noi ci avevamo ragionato come san precario su appunto l'idea dello sciopero precario, precario, strike che poi non è parole diverse ma la radice è sempre o meno la stessa. Una forma di resistenza ma contemporaneamente anche di proposizione altra che però si scontra su delle difficoltà oggettive che sono due strettamente e che pongo la vostra attenzione poi mi taccio. La prima è che il meccanismo di valorizzazione oggi non è più definibile compiutamente in un rapporto fra un interno lo chiamerei così che è l'essere umano con le sue capacità col suo cervello corpo sentimenti nervi muscoli è un esterno che è un esterno macchinico è un esterno a sua volta prodotto dall'ingegno umano che è la macchina su questo Geralde credo che possa dirci molte cose molto più di me io ho preso queste cose essenzialmente da lui ma anche da Bifo anche da altri voglio dire tutta una letteratura in cui vede che la capacità di la messa al lavoro della vita viene attraverso una composizione di umano e di macchinico non più fra loro strettamente separabile dove non è il macchinico che diventa umano ma è l'umano che diventa macchina in un certo senso quindi in senso negativo il nostro cervello che si divide in due parti tra un emisfero che diventa produzione di routine di standardizzazione di lavorazione in serie come quella che veniva fatta la catena di montaggio dove era la macchina che stabiliva la catena di montaggio l'uomo si adeguava alla macchina in un rapporto di dipendenza e di separazione che consentiva il sabotaggio della macchina questa separazione e il rifiuto del lavoro adesso noi abbiamo la macchina interiorizzata dentro di noi abbiamo quindi una parte del cervello banalizzando che diventa macchina una parte del cervello che dovrebbe essere quella creativa quella che comanda la macchina e ora a questo punto il rifiuto del lavoro come si può agire il sabotaggio della macchina come si può agire l'unica possibilità sarebbe il suicidio l'esodo totale della vita che non è sicuramente una soluzione che nella realtà poi succede vediamo che la situazione di crisi la situazione di stress le forme di alienazione cerebrale l'incremento esponenziale delle malattie le nuove malattie psicofisiche legate all'attività di produzione di valore sono l'uso di psicofarma tutte queste sono banalità ma insomma ci danno adito concretamente di questo problema era molto più semplice prendere un cacciavite e mettere una catena di montaggio era anche molto più liberatorio e ti dava anche molto più soddisfazioni che fare forme di nichilismo verso se stesso e verso il proprio corpo e qui c'è un problema come riusciamo a rompere questo meccanismo qui è un problema di soggettivazione potente la capacità di capire fino a che punto come riuscire a sviluppare a sottrarsi da questo meccanismo di rapporto uomo macchinico sempre più compenetrato e impenetrabile e questo è il primo punto e il secondo punto è che è esattamente legato a questo è il problema della misura che è stato sollevato ieri da quello che ho capito cioè oggi il valore non c'è più un'unità di misura del valore e dire un'unità di misura del valore è una realtà di produzione capitalistica vuol dire che non c'è più un'unità di misura del lavoro perché se oggi esiste l'unica teoria del valore oggi è la teoria del valore del lavoro ma se il valore lavoro diventa valore vita non abbiamo più un'unità di misura della vita e quindi del valore prodotto dalla vita anche perché non è più misurabili oggettivamente in termini della produzione esterna mediata da una macchina cioè quanti tondini in un'ora hai prodotto e lì dicevi 10 tondini tot valore se ne producevi 20 producevi più valore a parità di tempo oggi non siamo più in grado di avere dei parametri di misura delle unità di misura che ci consentono di dare una misura a questa e da qui c'è tutto il problema della svalorizzazione del lavoro della produzione immateriale del ruolo dei mercati finanziari o del brand come possibile unità di misura del valore quel valore che è misurabile nel momento stesso in cui ci è stato espropriato e che non è misurabile nel momento stesso in cui è stato prodotto e questa per noi è una difficoltà è una difficoltà non potremmo più chiedere aumenti salariali per tutti al di sopra della produttività come meccanismo di scardinare la gerarchia e il potere del comando del capitale sul lavoro certo una via di fuga c'è ed è quella del reddito di base incondizionato dove il termine incondizionato è proprio la remunerazione del lavoro prodotto nel momento stesso in cui viene prodotto e non gestito unilateralmente da qualcuno e ci da qualche bricio e qui è anche questo quindi queste sono le tematiche e il salone del mobile credo come tutta l'economia degli eventi la produzione artistica sia assolutamente la punta di un iceberg di una piramide che poi si dissemina su tutti i piani della vita umana produttiva anche dalla produzione agricola alla formazione alla produzione in manufattoria classica a tutti gli ambiti e quindi credo che sia su questo insomma che iniziamo magari a ragionare io termino un po' Grazie.